italiano in italia per imparare l'italiano con un italiano in italia immaginate il mostro più spaventoso terribile che possa esistere è così che molti studenti della lingua italiana vedono la grammatica come un mostro fatto di regole regolette regolone ma non è necessario avere paura della grammatica perché la grammatica non vuole farvi del male vuole solo aiutarvi a capire la lingua e può diventare molto più facile e meno paurosa grazie a gli esempi italiano in italia per imparare l'italiano con un italiano in italia